Tutti sappiamo chi è il signor nessuno. Ne veniamo a conoscenza quando siamo bambini. Una bevanda rovesciata sul tappeto, un vaso caduto a terra e frantumato in mille pezzi. I nostri genitori ci chiedono chi è stato e noi diciamo non lo so, non ero lì, non sono stato io. Allora immagino sia stato il signor nessuno. Molti bambini non pensano così tanto al signor nessuno, sono troppo concentrati sull'imminente sculacciata o sulla playstation confiscata. Ma i più furbi non tengono il broncio, si vendicano. Quei bambini che rimangono in piedi fino a tardi la vigilia di Natale per vedere Babbo Natale o per andare a caccia del coniglietto di Pasqua. Sono gli stessi che vengono messi in punizione con l'opportunità di dimostrare i tanti crimini del signor nessuno. Mio figlio era quel tipo di bambino. Passava settimane alla ricerca del signor nessuno, nascondendosi per ore, piazzando trappole e lasciando telecamere in ogni stanza. Era sempre così eccitato da lui che mi diceva sempre quanto fosse vicino a trovare una prova schiacciante. Finché un giorno, semplicemente, smise di farlo. Smise di fare domande e cominciò a passare le sue giornate giocando all'aperto. All'inizio pensavo che stesse solo crescendo, che si fosse gettato alle spalle tutte quelle cose fantasiose. Adesso non ne sono più così sicuro. La notte scorsa cadde un piatto dal piano della cucina. Junior si prese la colpa, raccolse i pezzi e mi implorò di punirlo. Io in quel momento mi trovavo nel giardino, quindi non vedi chi era stato, ma so che non era stato mio figlio. Lui era in giardino con me.